Ora la parola al professor Lorenzo Stanghelini che invece ci parlerà del recepimento della direttiva, quindi di che cosa nel decreto 118 del 2021 è entrato e quali sono le ulteriori possibili linee di intervento. Grazie. Grazie Laura, grazie al centro studi e alla città di Mantua per questa accoglienza straordinaria che potrei descrivere con piacere ma che se facessi così ruberei tempo alla relazione. Allora lo scopo della mia relazione è quello di provare a illustrare dove siamo con l'attuazione della direttiva 1023 del 2019 di cui ha già parlato la professoressa Scognamiglio, quindi qual è il suo contenuto, dove si colloca nel processo di recepimento il decreto legge 118 dell'agosto scorso e poi soprattutto quello che resta da fare e le scelte fondamentali che devono essere fatte e che sono assolutamente allo Stato impregiudicate. Partiamo dal contenuto della direttiva 1023 che magari è utile ripercorrere e che ci servirà poi nel seguito del ragionamento. La parte più consistente è quella che con un nome abbastanza sconosciuto nel nostro linguaggio nazionale si chiama i quadri di ristrutturazione preventiva, poi dirò più avanti che cosa sono. La seconda parte è quella relativa all'esdebitazione, la terza parte è quella relativa all'incremento di efficacia di tutte le procedure, e non soltanto dei quadri di ristrutturazione preventiva, ma anche delle procedure di insolvenza vera e propria e di esdebitazione. Parto rovesciando l'ordine, questo è l'ordine della direttiva e per comodità invece è conveniente lavorare al contrario. Sull'esdebitazione sostanzialmente il nostro sistema è già conforme alla direttiva 1023. Ci sono piccoli aggiustamenti ma si tratta veramente di sostanzialmente niente. Il codice della crisi più dell'attuale legge 3 del 2012 è conforme alla direttiva. Sull'incremento di efficacia delle procedure di insolvenza, del sistema complessivo concorsuale, ci sono degli aggiustamenti da fare. L'articolo 25 prescrive agli stati membri di provvedere affinché le procedure siano affidate a autorità giudiziarie e amministrative i cui componenti siano specificamente formati e competenti. E in particolare un considerando che non ha valore di prescrizione ma ha valore interpretativo, raccomanda la creazione di organi giudiziari specializzati o sezioni specializzate sulle quali concentrare la competenza relativa alle procedure di insolvenza o quantomeno quelle di ristrutturazione. Questa è la strada seguita per esempio dalla Germania e dai Paesi Bassi. La parte che più ci interessa, almeno più ci interessa in questa sede in cui si parla di crisi e di ripartenza, è quella relativa ai quadri di ristrutturazione preventiva. Precisiamo innanzitutto che si tratta di un'armonizzazione parziale del sistema che va per finalità e non per strumenti. Questo è tipico della legislazione europea, quella di prevedere degli obiettivi che gli stati membri devono conseguire lasciandoli liberi in qualche misura, ovviamente purché l'obiettivo sia conseguito, sugli strumenti con i quali quegli obiettivi vengono raggiunti. Quindi la direttiva impone agli stati membri, poi da ultimo vedremo dove siamo con il nostro codice della crisi, con il decreto 218, la direttiva impone agli stati membri di predisporre procedure e strumenti di ristrutturazione preventiva che rispettino alcuni principi minimi di efficacia e non ha l'obiettivo di imporre l'armonizzazione dell'intero sistema di procedure e strumenti di gestione della crisi. Quindi in sostanza al legislatore europeo, all'Unione Europea, che poi questo è un processo, come ricordava Giuliano Scudiamiglio, partito da lontano, se ne parlava già nella comunicazione sull'unione del mercato dei capitali, la Capital Market Union del 2015, e poi ha fatto il suo iter, ma si tratta di un'iniziativa che non ha il carattere di episodicità, si inserisce in un quadro complessivo in cui l'Unione Europea, per motivi che conosciamo e che io condivido, ma in generale sono condivisi almeno nel nostro paese, alla finalità di conseguire, creando un mercato in cui capitali e persone fluiscano in modo appunto senza ostacoli. Le procedure di insolvenza sono parte di questo sistema, pensate ad esempio, se qualcuno avesse il dubbio che questo non accade, alla proprietà prevalentemente estera o in larga parte estera dei credit services, che sono appunto investitori con capitali esteri, fanno affluire nel mercato italiano, confidando su un certo sistema di procedure di ristrutturazione, capitali appunto, che poi facciano un buon lavoro o non un buon lavoro, è un tema che non ci riguarda, ma certamente l'unione del mercato dei capitali la vediamo anche per quanto riguarda la proprietà dei credit services. Ovviamente l'Unione Europea non è neutrale rispetto alla qualità delle procedure di ristrutturazione, in quanto se le procedure di ristrutturazione sono efficienti, i capitali andranno più rapidamente a un impiego produttivo rispetto invece a essere immobilizzati, come spesso sono, in procedure che non restituiscono valore ai creditori. Quindi la direttiva in sostanza prevede che in ciascun Stato membro dell'Unione Europea sia reso disponibile a debitore e a certe condizioni anche ai creditori, questo è un tema su cui tornerò, uno strumento a fasi progressivo in cui vi è una transizione fluida lungo i seguenti grandi snodi, sono cinque. Il primo è quello della mera esenzione della revocatoria di atti prodromici o attuativi della ristrutturazione, l'articolo 18 che ci ricorda l'articolo 67 ai nostri fili così per memoria e le esenzioni successive a una procedura di ristrutturazione, quindi qualcosa che si limita a stabilizzare da possibili azioni revocatorie gli atti che siano prodromici, in questo la direttiva è molto più forte rispetto al nostro sistema, salvo il decreto 118, o attuativi della ristrutturazione. Secondo obiettivo, la protezione degli atti connessi all'acquisizione di finanziamenti ponte e finanziamenti in esecuzione, cioè la cosiddetta protezione della finanza, l'articolo 17. Dopodiché poi si iniziano con gli ulteriori tre obiettivi che sono più incisivi incisivi in senso progressivo, la sospensione delle azioni di tutti o alcuni dei creditori, anche una sospensione selettiva per creditori sigoli o categorie di creditori, è prevista nell'articolo 6, il quarto livello di incisività nella ristrutturazione è il vincolo per i creditori dissenzienti di una medesima classe, è previsto nell'articolo 9, paragrafo 6 dell'articolo 10, infine lo strumento più incisivo ed è intuitivo, è quello del vincolo per interi classi e per i soci della società in ristrutturazione, sono previsti rispettivamente nell'articolo 11 e dell'articolo 12, tutto questo con un limitato ruolo dell'autorità giudiziaria chiamata a presidiare gli snodi fondamentali della ristrutturazione e con un ruolo degli ausiliari da questa nominati che è di ausilio e non solo di controllo. La transizione lungo questi 5 snodi, dal più leggero la mera protezione alla revocatoria, al più pesante il vincolo per interi classi dissenzienti, come nel nostro caso il concordato preventivo, è fluida nel senso che il debitore avvia la ristrutturazione senza dover essere costretto a scelte di campo iniziale, quale strumento scelgo, cioè in sostanza può adattare gli strumenti e l'incisività dell'intervento alle risultanze delle analisi e delle interazioni con i soggetti interessati, anche le reazioni dei creditori. In altre parole, dobbiamo immaginare che l'obiettivo di cui dovremo tenere conto dell'attuazione dell'Unione Europea è che il debitore possa adattare l'intensità dello strumento alle reazioni del mercato e delle sue controparti. Questa fluidità, la transizione fluida, che è un punto importante su cui tornerò, è dimostrata dal fatto che non solo al debitore, ma anche ai creditori sono riservate scelte fondamentali da compiere nel corso della procedura, per esempio quella di chiedere l'omologazione di una determinata ipotesi di strutturazione o, se gli stati membri lo vorranno, per i creditori e i rappresentanti e i lavoratori, di presentare ipotesi alternative sulle quali chiedere il consenso del debitore o non chiedere il consenso del debitore. Quindi un'armonizzazione per obiettivi. Chi riguarda? Riguarda, questa è una precisazione importante, tutti i debitori che si propongano di proseguire anche soltanto imparte l'attività economica in via diretta. Quale che sia la natura di questa attività? Può trattarsi di impresa commerciale o non di impresa commerciale, di impresa agricola appunto. Può trattarsi di impresa o di attività professionale. Non sono coperti dalla direttiva gli strumenti che mirino invece la liquidazione totale del patrimonio, che restano fuori, che sono attualmente oggetto di un dibattito che è stato avviato dalla Commissione proprio nel 2021, che può portare, ma questo non è ancora scontato e non è scritto da nessun documento ufficiale, a una direttiva, a un regolamento o anche non a niente. Altro punto importante, e poi chiudo sul tema, è facoltà degli Stati membri includere o meno la prosecuzione dell'attività economica in via indiretta. Cioè in sostanza lo zoccolo duro che gli Stati membri, i 27 Stati dell'Unione Europea devono attuare, è quello che costituisce della messa a disposizione di un insieme di regole che consenta la ristrutturazione preventiva a chi esercita e intende continuare a esercitare un'attività economica imprenditoriale o professionale, un'attività economica imprenditoriale di qualunque natura o professionale appunto, si pensi al libero professionista o anche al professionista intellettuale. In questo quadro gli Stati membri hanno una libertà nella scelta dello strumento. La direttiva, articolo 4, paragrafo 5, può essere attuata dagli Stati membri, questo avrà rilevanza, lo vedremo più avanti, con un solo strumento o con più strumenti, ma a condizione, se sono più di uno strumento, che i due strumenti, i due o anche più strumenti, operino fra loro in modo fluido, coerente e flessibile e consentano di adattare l'intensità dello strumento alle circostanze e alle reazioni appunto dei creditori. Questo appunto apre anche il tema della possibilità di convivere sotto lo stesso tetto del diritto nazionale di strumenti armonizzati e di strumenti non armonizzati. In sostanza, se l'obiettivo è che venga assicurato almeno un strumento o una consecuzione di strumenti che fluidamente consentano di assicurare i cinque obiettivi di cui parlavo, l'ordinamento nazionale può lasciare anche altri strumenti o procedure non armonizzati che possono obbedire a filosofie diverse. Dove si colloca in tutto questo il decreto legge 24 agosto 2021 numero 118? Nonostante l'aspettativa creata da Giuliana Scogna Miglio, io non parlerò del decreto, anche perché vi è una sessione, anzi più sessioni, in cui se ne parla approfonditamente. Ciò che mi interessa è semplicemente guardarlo dall'angolo visuale, dal prisma dell'attuazione della direttiva. Il decreto legge 118 è in larga parte attuazione diretta della direttiva 2023 del 2019. Sottolineo 4-5 punti per motivare quello che ho appena detto. In primo luogo è applicabile anche all'imprenditore agricolo. L'articolo 2,1 è la prima norma che io conosca almeno così rubricata nel nostro ordinamento dal medioevo, che la tradizione della distinzione tra impresa commerciale e impresa agricola risale alla tradizione medievale e poi è transitata attraverso il codice di commercio e è rimasta anche dopo il 1942. L'articolo 2,1 apre dicendo che l'imprenditore commerciale e agricolo può accedere allo strumento previsto dal decreto. Secondo elemento per cui si può dire che il decreto legge 118 è attuazione diretta, è uno strumento da utilizzare in fase anticipata. Sapete che questo è un tema delicato di quanto la fase debba essere anticipata, cioè la preoccupazione che anima, è capitato di parlarne, il legislatore europeo è che non si abusi dello strumento quando non si ha nessuna difficoltà, in sostanza si finge una difficoltà per rinegoziare per esempio un contratto. Questo è un tema che non è, almeno non appartiene al nostro DNA, noi abbiamo diffuso un sacrosanto terrore dei tribunali per cui è difficile pensare che un debitore finga di avere difficoltà. Il tema per noi è in realtà diverso, il tema è se i nostri debitori possono accedere a strumenti di strutturazione preventiva anche quando si trovi in un stato di vera e propria risolvenza. Questo è un tema su cui la direttiva europea non si pronuncia, dà espressamente una riserva agli stati membri in questo senso che sarebbe complicato spiegare, ma è questo che si voleva dire e il nostro legislatore, il governo con il decreto 118 ha chiarito nella sostanza che ciò che conta non è lo stato in cui si versi attualmente, ma è lo stato in cui a seguito della negoziazione con i creditori si possa giungere. Quindi non rileverebbe l'insolvenza anche attuale, quanto piuttosto la probabilità che di questa insolvenza venga rimossa a seguito della negoziazione. Anche con l'emendamento direi di cui ho letto, poi non so lo stato esatto, che tenderebbe a eliminare la parola insolvenza, almeno l'obiettivo nella relazione di accompagnamento sarebbe di armonizzare questa nozione, il presupposto oggettivo del decreto 118 al sistema del nazionale residuo del concordato preventivo, ma non mi sembra lasciar salva l'intenzione originaria del governo nel prevedere che lo strumento possa essere utilizzato in fase anticipata, ma anche non necessariamente in fase anticipata, purché vi siano le condizioni per la ristrutturazione. Il punto che mi piace segnalare, ed è il terzo e secondo me si tratta, poi spero di non essere sbettito a mio avviso di una svolta epocale, è quella della lista di controllo particolareggiata. L'articolo 3 e il considerando 17 prevedono che al fine di aiutare i debitori, è l'allerta di cui parlava Giulia Nascogna Miglio, ma un'allerta sotto forma di incentivo e non sotto forma di spinta, al fine di aiutare tali debitori a ristrutturarsi a basso costo dovrebbero essere altresì elaborate a livello nazionale e rese disponibili online liste di controllo particolareggiate per i piani di ristrutturazione adeguate alle esigenze e alle specificità delle PMI. L'articolo 3,2 prevede esattamente, è una riproduzione letterale, il considerando appunto 17 della direttiva, l'articolo 3,2 del decreto 118, scusate, non l'avevo chiarito. E devo dire che se questo era l'obiettivo, il decreto dirigenziale va oltre, a mio avviso, oltre le aspettative, in quanto poi immagino che come al costume nel nostro Paese non mancheranno critici che faranno l'esegesi delle singole parole, ma mi piacerebbe comunicare a voi quella che è la mia sensazione. La mia sensazione è che l'operazione di messa a disposizione della checklist o lista di controllo particolareggiata è un'operazione che può cambiare le cose in quanto riduce enormemente i costi delle ristrutturazioni diffondendo quelle che sono prassi, oggi a pannaggio dei migliori professionalisti e giustamente pagati in modo adeguato, le mette a disposizione invece di una platea più ampia con uno strumento chiaro e operativo che rende quindi fattibili ristrutturazioni che non potrebbero essere fatte. Questo è un tema di cui l'Unione Europea è perfettamente consapevole nella direttiva più volte detto. I costi e la ristrutturazione sono tali che non costituiscono un ostacolo serio alla ristrutturazione dei piccoli e medie imprese e poi anche, dicevo, la lista di controllo particolareggiata può agevolare ristrutturazioni di qualità migliore. Il decreto dirigenziale che ieri è stato pubblicato appunto, basta leggere le cinque sezioni, il test pratico, la lista di controllo, il protocollo di conduzione della composizione negoziata, formazione degli esperti, piattaforma con tre allegati. Questo è, potremmo dire, un esempio luminoso di attuazione, di ricepimento di uno stimolo che è arrivato appunto dall'Unione Europea alla quale apparteniamo. e ancora attuazione di questo, della direttiva, è il fatto che la nomina dell'esperto e il ruolo dell'esperto soprattutto corrispondono alla finalità di ausilio alle parti interessate dalla ristrutturazione previsto dall'articolo 5 della direttiva. L'articolo 2 prevede infatti che l'esperto agevola le trattative fra i creditori e i creditori eventuali altri soggetti interessati, quindi un ruolo che non potrebbe essere più distante rispetto a quello a cui noi siamo abituati a pensare rispetto agli ausiliari del giudice. Infine, un basso tasso di intervento giudiziale perché il giudice a cui il giudice è chiamato a intervenire solo in momenti in cui può esservi incidenza sui diritti delle parti. In conclusione, si può dire che il decreto 118 è a tutti gli effetti parte di un intervento di attuazione della direttiva che tuttavia deve ancora proseguire con riferimento agli interventi ulteriori previsti dalla medesima direttiva e a questo riguardo siamo senza indicazioni perché la legge di delega che ha già delegato il governo nell'aprile scorso a recepire la direttiva 1023 di cui stiamo parlando non prevede a riguardo nessun criterio di delega. Cioè, in sostanza, l'elenco delle direttive previste dalla legge di delegazione europea 19-20, pubblicata il 22 aprile 21 numero 53, non dà indicazioni. Quindi su questo dobbiamo lavorare, potremmo dire, su una terra incognita. E vengo a questo punto all'ultima parte della della mia relazione, che è quella relativa alle scelte da fare. E sono tante. Direi che la scelta da fare in apicipus, cioè proprio la madre di tutte le scelte, se si potesse dire così, è quella relativa allo strumento o agli strumenti che dovranno essere utilizzati per tradurre in norme nazionali gli obiettivi della direttiva, quei cinque obiettivi. La scelta fondamentale dovrà essere quella se adottare la direttiva mediante un solo strumento, che contenga tutti e cinque i livelli, e poi se è un solo strumento, se è uno strumento di nuova creazione, un intero procedimento nuovo, oppure uno strumento già esistente. Quindi si prenderebbe uno degli strumenti che abbiamo, naturalmente tutti noi abbiamo in mente o la DR efficacia estesa o il concordato, e lo si, diciamo, ristrutturerebbe per adattare, per accogliere anche quello che attualmente non c'è. Oppure, questa è l'altra possibilità, è il primo dei due bivi, abbiamo visto un solo strumento e poi a questo punto nuovo o già esistente, è uguale, oppure mediante una pluralità di strumenti, a condizione però, e questo è un tema importante, che i diritti e le garanzie previste dalla direttiva siano conferiti in modo coerente al debitore e alle parti interessate. Ricordo che al nostro sistema non è sconosciuto il passaggio da uno strumento all'altro, ma è essenzialmente un passaggio in termini di regressione dalla domanda di concordato in bianco all'accordo di ristrutturazione e ora al piano attestato con norma temporanea tuttavia prorogata, ma non è invece conosciuto la transizione in avanti, che purtroppo è quella che è più frequente, perché è ben più facile che le difficoltà si rivelino maggiori di quanto inizialmente programmato rispetto al caso in cui si parta con uno strumento da chirurgia intensiva e si esca con la chirurgia estetica. Bene, quindi trago spunto da una discussione che abbiamo fatto insieme a Paola Vella, che ha scritto un pezzetto che mi piace molto citare, fra le ipotesi che abbiamo appena detto, quindi solo strumento, soprattutto uno strumento nuovo, uno strumento esistente, vi è una progressiva relazione bionivoca, inversa, fra quanto l'intervento sia innovativo e quanto sia complesso, perché se si adottasse uno strumento del tutto nuovo, chiamiamolo quadro dell'istrutturazione preventiva, per usare la stessa terminologia, sarebbe abbastanza facile attuare la direttiva proprio perché sarebbe completamente nuovo, non ci sarebbe bisogno di adattare pezzi significativi del codice della crisi e diciamo si creerebbe appunto un sistema parallelo. Se invece si decidesse, si deciderà di eseguire l'adeguamento attraverso i più strumenti di ristrutturazione fra quelli noti, l'impatto sul sistema sarebbe minore in quanto ci troveremmo a fruire di strumenti che già conosciamo, seppure in parte modificati, ma l'intervento sarebbe molto più complesso dal punto di vista attuativo perché dovrebbero essere coordinati in un quadro unitario tutti gli interventi di ristrutturazione in vista della fluidità e della modularità della ristrutturazione di cui si attende. In sostanza, se scegliamo un solo strumento, l'unica condizione è che esso assolva tutti i requisiti della direttiva. Se si fa ricorso a più strumenti, occorre che i requisiti, anche se rispettati in strumenti diversi, dovrebbero integrarsi in modo tale da dare quel passaggio fluibile. Ulteriore problema, quale che sia la scelta? Se una volta creato il sistema, lo strumento nuovo o riadattato, si debba per ripercussione intervenire anche sul sistema già esistente. Faccio l'ipotesi, se avessimo una nuova procedura simil concordato sarebbe abbastanza curioso che quella procedura rispondesse ai più flessibili e amichevoli principi della direttiva 1023 restasse appunto un articolo 84 che ingabbia il concordato con continuità aziendale da maglie d'acciaio. A questo punto vediamo quali potrebbero essere le linee di attuazione. Ipotizziamo che la direttiva sia attuata mediante il concordato preventivo, quindi qualora o il concordato preventivo integralmente, mi pare abbastanza difficile perché il concordato preventivo ha sempre un tocco pesante, bisognerebbe ripensare a qualcosa di diverso al concordato preventivo, ma se il concordato preventivo sarà individuato lo strumento o parte del sistema di strumenti di attuazione della direttiva, ripeto, se l'idea è che potrebbe anche essere lo strumento completamente nuovo, allora dovranno essere necessariamente resi coerenti con la direttiva vari punti, ne tocco quattro solo per rapidità, anche perché il tempo a mia disposizione, che ritengo di riuscire a rispettare, però non è più infinito, non è più moltissimo. Il primo è quello del giudizio di fattibilità, il giudizio di fattibilità previsto dall'articolo 10 paragrafo 3 della direttiva è radicalmente diverso rispetto a quello dell'articolo 48,3 del codice della crisi. Nella direttiva si prevede un giudizio e quindi la possibilità di delle autorità giudiziarie di rifiutare l'omologazione quando il piano risulti privo della prospettiva ragionevole di impedire l'insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell'impresa. Mentre sappiamo che l'articolo 48,3 prevede la verifica positiva della fattibilità economica, naturalmente se un piano è fattibile chiaramente o è chiaramente infattibile non vi è differenza, ma il punto è che il mondo è incerto. Esistono piani chiaramente fattibili, quelli con i soldi in banca normalmente perché poi di solito c'è sempre un'incertezza, esistono piani chiaramente non fattibili ma esiste poi una grande fascia intermedia in cui l'incertezza regna sovrana e allora dire se il malato nella non certezza di guarirlo lo si uccide subito o invece si dà una chance c'è una certa differenza. Secondo punto, i limiti alla continuità, l'ho già detto, la direttiva europea prevede che come requisito unico di fruizione del quadro di strutturazione preventiva vi sia quello dell'esistenza di un'attività economica da conservare. Non vi è quindi un tema di prevalenza dei flussi e della forza lavoro come è previsto nell'articolo 84. Tema nuovo ne accennava Giuliana Scogna Miglio in realtà ancora meglio in una telefonata che abbiamo fatto, il trattamento dei soci. Nel concordato preventivo come ha scritto Giuseppe Ferri non solo non è previsto il trattamento dei soci ma proprio come se il nostro sistema non si accorgesse neppure della loro esistenza. In realtà i soci esistono e non solo per un rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul diritto di proprietà ne deve essere assicurata la possibilità di censurare una ristrutturazione espropriative. È raro che possano essere ma non è affatto sconosciuto. Ma in secondo luogo deve essere prevista la impossibilità per i soci di ostacolare l'adozione e l'esecuzione di una ristrutturazione che massimizza gli interessi delle altre parti. Quindi devono essere introdotte nel concordato preventivo qualora, ripeto, esso sia utilizzato sia garanzia dal punto di vista procedurale. Voto o non voto. L'articolo 12 della direttiva lascia due opzioni agli Stati membri secondo la loro tradizione decidere se gli Stati membri, se i soci possono votare come in America, negli Stati Uniti e in Germania per esempio, oppure invece stanno fuori come in altri paesi. Purché sia assicurata da un lato la possibilità di censurare l'esproprio, dall'altro lato, e questo è un tema, l'impossibilità di opporsi a ristrutturazioni efficienti. Spero di non urtare sensibilità, ma secondo me il caso Ferrarini, se fosse stato attuato l'articolo 12 della direttiva, avrebbe avuto un esito diverso. Il caso Ferrarini è quello in cui un concordato è stato ritirato con l'effetto, non voglio dire l'obiettivo, di impedire la presentazione di una proposta concorrente. Infine, tema lungo, su cui posso solo accennare, la distribuzione del valore da ristrutturazione dovrebbe essere resta ben più libera. Oggi abbiamo un articolo 160,2 replicato nel codice della crisi che prevede come requisito di ammissibilità della proposta di concordato rispetto all'ordine causa legittima di prelazione. Questo è un tema che dovrebbe essere invece consegnato al giudizio di omologazione in caso di opposizione, quindi non è un requisito di ammissibilità, secondo la direttiva, ma un requisito di omologabilità se il creditore o il socio censuri che subisce un trattamento peggiore di quella che sarebbe l'alternativa, non l'alternativa liquidatoria come previsto da un emendamento sbagliato dell'articolo 118, l'alternativa che è sul tavolo, che potrebbe anche essere diversa. Il valore può essere distribuito con maggiore libertà, secondo la regola della priorità relativa che è un po' complesso da illustrare in così poco tempo. Passiamo velocissimamente a quali sarebbero gli adattamenti da fare se fosse prescelto come candidato per l'attuazione della direttiva la DR efficace stesa. A questo punto dovrebbe essere chiarito, direi non più previsto perché è così con il correttivo, che la DR efficace stesa si applica anche qualora la componente di continuità non sia prevalente, dovrebbe essere prevista la possibilità della facilità di latizi incapienti, dovrebbe essere prevista una disciplina dei contratti pendenti anche nell'ADR, il controllo giudiziario dovrebbe essere di nuovo assimilato a quello di cui parlavo prima, l'inesistenza di prospettiva ragionevole e anche qui i soci dovrebbero essere coinvolti. Concludo, direi che in questo momento a mio avviso siamo nella tempesta perfetta, direi che sono tre elementi che convergono, il primo sappiamo tutti l'eredità della pandemia fino a oggi abbastanza diciamo narcotizzata dal sistema, giustamente, del sistema dei sostegni pubblici che tuttavia stanno andando fuori fuori regime, stanno venendo revocati. Il secondo è che abbiamo un codice della crisi su cui si è molto lavorato e che ha ricevuto consensi molto vasti, anche per una certa organicità del lavoro e per il fatto di aver sistemato molte questioni. Ma esiste però una direttiva che deve essere attuata entro luglio del 2022 e che dice cose significativamente diverse rispetto a quelle che prevede il codice della crisi. Quindi non ha senso a questo punto guardare al passato perché siamo qua nell'ottobre del 2021 a domandarci se la direttiva verrà attuata con uno strumento nuovo o con strumenti esistenti e allora a questo punto quanta ortepedia deve essere fatta a quegli strumenti. Quindi ci dobbiamo domandare perché al giudice per esempio, entro nelle mie opinioni, è stato attribuito un ruolo che con il dovuto rispetto non è in condizioni di svolgere. Il giudice non ha la possibilità, non ha la competenza, la formazione per valutare la fattibilità economica dei piani di ristrutturazione. Né a questo aiuta il commissario giudiziale che purtroppo anche per una disciplina che prevede che il commissario giudiziale abbia un atteggiamento essenzialmente di controllo e non di ausilio ha spesso un atteggiamento contrario in quanto come sappiamo è più facile non essere responsabili dicendo che un piano non ha possibilità di successo e quindi portare al fallimento piuttosto di assumersi la responsabilità di dare luce verde o contribuire alla luce verde di un piano che poi invece come fisiologico che accada in un 50% circa dei casi non arriverà a destinazione. Quindi è un sistema che attraverso il meccanismo convergente delle responsabilità a porta a un eccesso di carattere giudiziario. Quindi perché si è così avversi al rischio che di fronte all'incertezza sulla soluzione si preferisce il fallimento immediato? Questo è un punto importantissimo. Quindi concludo dicendo che c'è molto lavoro da fare secondo me e non perché ce lo chiede l'Europa ma perché ce lo chiede la ragionevolezza. Grazie. Grazie, grazie a professor Stanghellini che come componente dicevamo della commissione ministeriale che si occupa proprio di effettuare queste proposte ci ha dato un quadro di quelle che potrebbero essere le linee di intervento di prossimo recepimento di questa direttiva. Direi ora di cambiare il tavolo dei relatori e di passare alla successiva sessione. Grazie ancora. Allora professoressa Scogna Miglio e professor Stanghellini chiamo al tavolo il professor Insiteri e il dottor Alberto Guiotto. Grazie. Sì, 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 infatti perché qui per le norme Covid abbiamo la necessità di mantenerci distanziati. Ancora grazie.